La popolazione, primo video, qui parleremo di demografia, l'Europa è un continente che invecchia, le migrazioni tra paesi europei, l'immigrazione dal resto del mondo, la popolazione e l'immigrazione in Italia, etnie e lingue d'Europa. La demografia, la demografia è la scienza che studia la popolazione di un territorio, chiedendosi quante persone ci vivono, è una popolazione in aumento o in diminuzione, e come è composta, quanto è età, vale a dire bambini, giovani, adulti, anziani e sesso, uomini e donne, questa popolazione. Il primo indicatore da considerare, per lo studio demografico, è il saldo naturale, cioè la differenza tra il numero di nati e di morti in un determinato periodo e quando questa differenza è nulla o quasi si parla di crescita zero. Per chiarire le cause si usano quindi altri due indicatori, vale a dire il tasso di natalità, il numero di nati ogni mille abitanti, il tasso di mortalità, che è il numero di morti ogni mille abitanti. Un altro aspetto importante è l'età della popolazione, per cui si usano diversi indicatori, tra cui il tasso di fecondità, cioè il numero di figli partoriti in media da ciascuna donna, l'età media, la speranza di vita o vita media. La quantità di popolazione in un territorio varia anche a seconda di chi quel territorio lo lascia o vi ci arriva, cioè a causa dei movimenti migratori. Accanto al saldo naturale, la demografia considera dunque il saldo migratorio, che è la somma e la somma tra il saldo naturale e il saldo migratorio, costituisce il saldo demografico. L'Europa, un continente che invecchia, in Europa vivono circa 750 milioni di persone, poco più di un decimo della popolazione mondiale. Negli ultimi decenni, a partire dalla seconda metà del Novecento, la popolazione conosce una crescita lenta, mentre nel resto del mondo, in particolare in Asia e Africa, è in rapido aumento. La causa principale della scarsa crescita della popolazione europea negli ultimi decenni è la diminuzione delle nascite. Oggi il saldo naturale è prossimo alla crescita zero, cioè la differenza tra i nati e i morti, in alcuni paesi addirittura in negativo. Ci sono quindi pochi bambini, ragazzi e molti anziani. In media, un europeo ha una speranza di vita superiore ai 75 anni, quindi una lunga speranza di vita. Parliamo di immigrazioni tra paesi europei. Nella sua storia, l'Europa è stata percorsa da numerose immigrazioni, intere comunità si spostavano a causa di persecuzioni o guerre, invasioni e conquiste. Individui e famiglie si trasferivano in cerca di lavoro e condizioni di vita migliori. E qui vedete le immigrazioni interne europee. Negli ultimi decenni, gli spostamenti sono diventati più facili, in particolare dopo la nascita dell'Unione Europea. I flussi principali, vedete, sono da est verso a ovest e da sud verso a nord. Vedete i primi indicati con delle frecce blu, i secondi con delle frecce rosse. Perché dei flussi in questa direzione? Perché nell'Europa settentrionale e occidentale ci sono dei paesi più benestanti, sviluppati economicamente rispetto all'Europa, soprattutto all'Europa orientale, ma anche all'Europa mediterranea. Dall'Europa orientale appunto all'Europa occidentale. Il primo flusso che abbiamo visto è la principale corrente migratoria e fa sì che la popolazione di molti paesi dell'est Europa sia in calo. Poi, l'abbiamo visto, il secondo, dall'Europa meridionale all'Europa settentrionale. Un'altra direttrice migratoria va invece da sud verso nord, dai paesi mediterranei come Spagna, Grecia, Portogallo e Italia, verso Germania, Regno Unito e altri paesi settentrionali. Infine abbiamo un flusso che parte da Spagna, Grecia e Portogallo. Dal 2010 hanno avuto un saldo migratorio negativo, con più partenze che nuovi ingressi. L'immigrazione dal resto del mondo. Mentre l'Europa sta invecchiando i rischi al declino economico a causa della mancanza di giovani, ci sono regioni del mondo in cui la popolazione cresce a ritmi impetuosi, cioè tantissimo, in primo luogo l'Africa, ma anche l'Asia meridionale e l'America latina. L'immigrazione di massa verso l'Europa inizia negli anni 50 del secolo scorso e proviene dalle ex colonie di Asia, Africa e Sud America. Tra le comunità più numerose ci sono indiani, pakistani, bengalesi e caraibici in Gran Bretagna. Magrebini, cioè dell'Africa del Nord, indocinesi e africani in Francia. Cittadini originali del Suriname in Olanda, che se non sbaglio è un ex colonia olandese. Il Suriname si trova sulla costa orientale dell'America del Sud. Angolani, mozambicani e brasiliani in Portogallo. La Germania, pur non essendo stata una potenza coloniale, nel dopoguerra importò un gran numero di operai dai paesi mediterranei, tra cui Italia e Turchia. Oggi la comunità turca, in Germania, conta quasi 3 milioni di abitanti. In molti casi le persone che giungono ora in Europa sono profughi e rifugiati politici in fuga da guerre, persecuzioni o regimi dittatoriali. E' il caso, negli ultimi decenni, di somali, iracheni, palestinesi, sudanesi, afghani. Infine, la popolazione e l'immigrazione in Italia, i cittadini italiani che vivono nel nostro paese sono circa 55 milioni e mezzo e il loro numero negli ultimi decenni si è mantenuto stabile, con una diminuzione anzi negli ultimi anni. Questo andamento della popolazione è in gran parte dovuto allo scarso numero di nascite. Nell'anno 90 la popolazione in Italia ha continuato a crescere, superando di poco i 60 milioni, ma questo grazie all'arrivo di nuovi abitanti provenienti dall'estero. Ultimamente la popolazione totale è calata ed è aumentato il numero di persone che si è trasferito all'estero, soprattutto giovani. Oggi gli immigrati italiani sono 5 milioni, cioè tanti. Prosegueremo il discorso nel secondo tutorial.